Da un'infanzia di stenti alla fama mondiale, questa è la storia di Romelu Lukaku. Figlio di un ex calciatore professionista, non ha mai vissuto nel lusso. Dopo che il padre sperperò i guadagni, in casa mancavano spesso luce, acqua e cibo. Decise che avrebbe fatto di tutto per uscire da questa situazione e così fu. Ad appena 16 anni firmò il suo primo contratto da professionista. 98 partite e 41 gol dopo, l'attenzione di tutti i club d'Europa era su Romelu. Fu il Chelsea ad accaparrarselo per circa 22 milioni di euro. Ma dopo l'arrivo ai Blues, inizia un'infinita tra filati prestiti di squadre di bassa lega in Premier. La svolta arrivò nel 2015, stagione in cui Lukaku diventò il più giovane giocatore nella storia della Premier a raggiungere 50 gol. Stagione in cui le sue giocate convinsero il Man United di Jose Mourinho ad accapararselo per 90 milioni di euro. Il resto è storia.